Ciao, mi chiamo Diego Bertoldi e vengo da Perugia. Avevo un bar, era molto impegnativo, troppo, le ore, i pomeriggi, la notte, ho deciso di cambiare. Ho conosciuto Ecoline da un viaggio che ho fatto all'estero dove vidi un servizio simile. Allora quando sono tornato ho cercato in rete, ho fatto delle ricerche avanzate, ho trovato questa meravigliosa opportunità e ho cominciato. Sono sempre stato un tipo indipendente che cercava sia indipendenza che innovazione e in Ecoline Wash ho trovato entrambe e mi sta dando per ora molta soddisfazione. I miei obiettivi sono crescere, crescere, crescere senza accontentarsi, senza dare nulla per scontato. Approfondire il discorso sia a domicilio sia del mio nuovo punto Ecoline Wash Mall che riguarda proprio il lavaggio a vapore e sanificazione all'interno dei centri commerciali.